ragazzi mi son fermato un attimo per farvi vedere questa piccola curiosità della germania e quasi tutta la germania pezzi di terreno dove coltivano fiori qui c'è la cassettina e qui c'è quanto costa il fiore un euro il girasole la gladiole un euro e le leidalie 50 centesimi poche parole vieni qua ci sono i coltelli a disposizione ti tagli il girasole o il fiore logicamente siamo a settembre adesso la stagione se ne sta andando quindi diciamo che trovi poca cosa però per dirti pezzo terreno libero dove chiunque può venire tagliare andarsene invece qui rispettano e questa è una cosa che mi piace tanto della germania grazie